Primo podio targato Peugeot nel campionato del mondo FIA di rallycross in merito dello svedese Timmy Hansen che ha conquistato con la 208 T16 WRX. Il secondo posto nella stessa tappa stagionale disputata mette in Belgio. Grazie a questo risultato il team Peugeot Hansen occupa ora il terzo posto nella classifica del mondiale.